C'era una volta un piccolo principe che viveva su di un pianeta poco più grande di lui. Buonasera. Che pianeta è questo? Questa è la Terra. Questa è l'Africa. Il serpente è un piccolo personaggio, ma è uno dei personaggi, a mio modestissimo modo di vedere, più presenti nella società moderna. Coloro che non sai esattamente chi sono, sono quelli dai quali dobbiamo guardarci con maggiore attenzione. Ogni riferimento è puramente casuale. Tu sei un animale buffo, non sei più spesso di un dito. Ma sono più potente del dito di un re. Non hai neppure le zampe, non puoi nemmeno camminare. Posso trasportarti più lontano di quanto possa fare un bastimento. Andate al cinema, il piccolo principe vi aspetta. È una fiaba per grandi e per piccini. Ed è un bellissimo romanzo. Spero che la visione del film vi induca anche a rileggere il libro, cosa che io personalmente da serpente farò. Non hai neppure le zampe, non hai neppure le zampe. Grazie a tutti.